Sì, andiamo a tornare. Ma adesso... Certo, questo è il mio pacco. Mi cagano. E mi chiede un figlio, ecco qui per tu. No, non mi cagano. E tu? Ah, tu rimanete ancora come prima che non ti ho ripreso. Ma non mi racconti. Mi racconti. Mi racconti. Non mi racconti. No, non c'è lui, veramente. e ci dice la verità ah tu ti ripeto come prima non c'è l'ho non c'è l'ho guarda Manu 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 ciao vabbiamo ma mi guarda sono una buona 마 non c'è il dolore forno